Continuano i festeggiamenti di questo Carnevale 2013 qui al Mama Ines di Cercola e per questo lunedì ci sarà un ospite davvero eccezionale. Tra pochissimi istanti infatti in console suonerà Luca Agnelli. Notti brave ovviamente non poteva mancare, io Stefano non potevo mancare e allora a voi le immagini. Signore e signori, qui c'è Luca Agnelli! Ciao, ciao! Siamo al terzo giorno di Carnevale, voglio sapere un po' da te le emozioni di questo weekend davvero da favola. Sì, devo dire la verità, insomma, la terza sera di seguito e come ho detto nelle precedenti puntate si aspetta veramente un gran weekend prolungato di Carnevalesco qui al Mama Ines. Devo dire, veramente eccezionale, tutte e tre le serate, forti, belle, i clienti tutti divertiti e forza Mama Ines. Assolutamente, anche perché considerando che stasera è lunedì c'è un casino all'interno del locale che non si può capire, veramente incredibile. Questa sera c'è anche un ospite che fa un po' da tirante, questa sera Luca Agnelli, insomma, grande ospite che è star questa sera al Mama Ines. Sì, infatti stasera abbiamo voluto fare questo regalo ai giovani, a questo pubblico giovanile di questa sera di lunedì Carnevale e devo dire, insomma, Luca Agnelli rimane comunque un professorista. Guarda, era la prima volta venivo qua e ho trovato un pubblico molto carico e molto ben predisposto e ci siamo divertiti molto. Il nostro programma si chiama Notti Brave, quindi c'è una domanda di rito che noi facciamo sempre, la tua notte brava per eccellenza? Ogni club ha il suo perché, ha la sua storia, la sua atmosfera e si creano le giuste e le personali sensazioni, quindi ogni notte è brava a modo suo. Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, visto che siamo a Notti Brave, usate la testa che è la cosa più importante e speriamo di rivederci molto presto.